Io non vedo, magari appunto dipende poi dall'attitudine delle persone, sono un entusiasta, quindi una positiva e una propositiva. Quando ero ragazza volevo aderire da qualche associazione ambientalista e non sapevo decidermi su quella che effettivamente lavorava di più sulle proposte e mi sembravano appunto troppo radicate magari appunto sull'idea della battaglia. Quindi io mi schiero da quella parte di chi costruisce la proposta anche come tipo di modello di impresa, a nostra ragiona così. Quindi anche, cioè, io rispetto anche al capitalismo e a temi, come dire, che sono oggetto centrale delle battaglie, si può in qualche maniera utilizzarle a proprio vantaggio, un po' come l'herti marziali, non so se sia l'Aikido, che usi la forza dell'avversario per sconfiggerlo. In questo caso, come dicevo prima, questo spostamento di potere da centralizzato a decentrato è una situazione di questo tipo. Io non posso lottare o, come dire, muovermi in maniera estranea rispetto al modello economico. Devo utilizzare, a mio avviso, questa opportunità e questo modello che sta trasformandosi proprio per abbattere il precedente modello centralizzato, speculativo, devastante, che viole i diritti, che viola... Lo posso fare ma senza contrapposizione. Non so come... Forse è un discorso che in un contesto di questo tipo magari sembrerà ingenuo o non condivisibile. Però di fatto, per essere efficaci, secondo me ha più senso lavorare sulla proposta, sulle competenze necessarie per portare avanti una proposta e sulla costruzione di qualcosa di solido. Quindi io mi concentro poco su chi sto combattendo perché di fatto già il modello dimostra che questa novità è la rivoluzione. Quindi per fare una comunità energetica o per fare un progetto di questo tipo che ha impatto sul territorio, di fatto bisogna mettere insieme una serie di competenze trasversali e ragionare sui problemi che poi possono essere considerate delle risorse silenti. Faccio un esempio concreto che ho fatto anche l'altro giorno a Vicenza in un altro evento rivolto ai comuni. A Biccari c'era un problema di boschi inutilizzati, di territorio inutilizzato e di risorse silenti e un problema anche di erosione del territorio, di fatto che c'erano alluvioni per la non gestione. Hanno deciso di realizzare un parco avventura in cima a questo territorio, di rivitalizzare un lago che c'era, di utilizzarlo anche per il tempo libero. Hanno lavorato per utilizzare il legno che toglievano per fare delle barriere naturali contro l'erosione e queste barriere naturali adesso le stanno studiando per realizzare una specie di teatro. Quindi mettendo insieme tutte le competenze e analizzando la situazione da più punti di vista si è fatto un lavoro, parlando di clima, sia di adattamento che di mitigazione. Si è dato occupazione perché si è creata una realtà che non esisteva. L'anno scorso hanno staccato 12.000 biglietti di persone, di bambini che sono andati al parco avventura. Hanno attivato e messo in piedi un meccanismo di diffusione dei prodotti locali. Quindi hanno guardato la situazione non dal punto di vista di gestire un bosco o di produrre energia o di inventarmi qualcosa. Hanno fatto tutto insieme. Quindi in questo senso il lavoro di analisi che i comitati possono fare con le varie competenze può costruire questi modelli. Quindi di fatto siccome la forza sta nel non guardare solo al tema energia o al tema puntuale ma metterli insieme tutti, sedersi a tavolino il tempo necessario per poi partire con dei progetti che effettivamente fanno una rivoluzione. Rispetto alla questione della sostenibilità delle tecnologie, in realtà noi ne teniamo conto. Il fotovoltaico è una tecnologia che è il 99% riciclabile, disassemblabile e riutilizzabile. E la filiera, anche la produzione di silicio, non è una risorsa limitata come può essere il litio o come possono essere altre risorse. Quindi non ha queste criticità. E le comunità energetiche comunque non riguardano solo il fotovoltaico, possono riguardare anche l'idroelettrico, quindi il mini idro e anche la biomassa. Ovviamente nel caso della biomassa nascono tutta una serie di altre questioni, che sono quale tecnologie utilizzare per non produrre ulteriori emissioni. Nel caso dei Bicari stanno valutando i pirogastificatori per la produzione anche di biochar da utilizzare come ammendato. Ci sono tutta una serie di filiere che possono essere messe in piedi intorno a questi progetti che esigono delle competenze e che però fanno crescere anche chi non ha competenze e si siede attorno a un tavolo. Un Mattia che non è un esperto di questa cosa, dopo un mese probabilmente saprebbe tenere una conferenza per informare e formare altre persone. Poi c'era un'altra questione, la questione dell'educazione. La questione dell'educazione è proprio intrinseca in questo modello che coinvolge i cittadini. Ci saranno quelli che sono già preparati o che hanno una loro idea, ci saranno quelli che si avvicinano senza competenze, ma alla fine è un flusso. Io lo vedo anche in Enostra. Qualsiasi lavoro facciamo è un lavoro di squadra dove c'è un flusso continuo di informazioni, non c'è competizione ma c'è costruzione e alla fine di ogni riunione si va a casa tutti più ricchi di come si era prima di sedersi. Più capaci, più competenti, più aperti, più in grado di risolvere problemi con appunto soluzioni e opportunità concrete. E ovviamente il percorso dell'educazione poi, come dire, sta nei comitati, è un po' innato il fatto di organizzare momenti di diffusione, di condivisione per allargare la platea di persone sensibili e in grado di cogliere questa opportunità e di costruire la transizione. Sì, posso dire due cose? Sì, no, io aggiungo, ma intanto voglio sottolineare un punto, no? Chiaramente dopo ognuno di noi ha un'attitudine e quindi Sara magari ha questa attitudine, io ho altri qui dentro un po' meno perché siamo più combattivi e ci piace più essere incazzosi e quindi insomma noi ci portiamo più sull'altro fronte. Ma in realtà appunto il senso dell'iniziativa di oggi è che non ci deve essere una relazione dicotomica, cioè di contrapposizione fra la costruzione dell'alternativa, delle pratiche di alternativa e il conflitto. Io personalmente sono estremamente convinto che queste due cose devono viaggiare insieme e che le esperienze di resistenza territoriale, ambientale o sociale o su altre questioni che stiamo dibattendo in questi giorni, così come le esperienze invece di pratiche di alternativa, devono interfacciarsi, devono relazionarsi perché è da lì che nasce, come direi, una comunità più larga, cioè proprio di relazioni che devono essere instaurate chiaramente in maniera diversa. Ecco, forse questa è una cosa di cui dovremmo assumere di più questo tema, cioè il tipo di relazioni che noi instauriamo tra di noi e con gli altri, perché comunque tutti noi siamo immersi in questa società e tutti noi, chi più chi meno, in maniera più critica o meno critica, però subiamo gli effetti della pressione che viene esercitata su di noi e riproduciamo certe dinamiche anche nelle nostre organizzazioni, e quindi questo è anche una questione che secondo me dobbiamo prendere in considerazione. Però, ripeto, forse una delle chiavi di volta sta proprio nell'uscire da questa separazione, chiamiamola non contrapposizione ma separazione, tra chi si occupa più di fare biologico piuttosto che produrre energia, e chi invece difende il territorio. Abbiamo bisogno di difenderci dal meccanismo, come dire, di sfruttamento estrativista che distrugge la vita sul pianeta, distrugge le nostre vite, distrugge la vita sul pianeta, perché se non lo fermiamo moriamo, ok? E vivere è la condizione primaria per poter fare delle cose. Quando parliamo di giustizia climatica, diciamo, adesso dobbiamo agire, adesso dobbiamo fermarli, perché se no, fra pochi decenni non è più possibile sopravvivere sul pianeta, quindi il blocco, il bloccarli, mettergli i bastoni tra le ruote è fondamentale. Ma dall'altro, proprio per non ricadere in una dinamica che si riproduce all'infinito, dobbiamo trovare il modo di cominciare a costruire dei pezzi del mondo che vogliamo, e quindi praticare le alternative. E tutte e due le cose insieme hanno una potenza, come dire, di mettere in difficoltà questi meccanismi. Come la cipolla, voglio dire, ci sfogliano una foglia alla volta, però poi alla fine non resta niente. Però se noi invece uniamo, intrecciamo, allora lì davvero costruiamo degli elementi di resistenza che possono gettare delle basi significative. E volevo solo aggiungere su due questioni. Allora, uno, l'ha già detto Renato prima, la questione dell'educazione, eccetera. La nostra modalità, appunto, è quella di partire dalle contraddizioni concrete, reali, è come porti avanti le tue battaglie, le tue avvertenze, che fa la differenza qualitativa. Cioè, se nell'agire il conflitto, tu anche dai degli elementi di comprensione di quello che succede. Allarghi lo sguardo e non resti limitato, come dire, al problema. Noi, la maggior parte ormai dei comitati, fa questo tipo di lavoro perché ha maturato una visione più complessiva delle questioni. Io penso che è da lì che bisogna partire in ogni esperienza. Se no, altrimenti, appunto, diventiamo dei professorini che non abbiamo bisogno di questo. Io dico sempre, sappiamo tante cose, ma più sai e più ti accorgi di non sapere. Quindi impariamo insieme, camminando insieme, e vediamo quello che succede. Sulla questione del fotovoltaico, ha risposto già Sara. Però mi ricordo che anche l'anno scorso, la prima edizione del Climate Camp, c'era un attivista americano, di cui non ricordo il nome, che metteva un po' in discussione l'idea, diceva sostanzialmente, lo dico in maniera grezza ed estremamente sintetica, beh, qualsiasi cosa che facciamo, comunque non ne usciamo, perché qualsiasi cosa che noi, anche un pannello fotovoltaico, per produrla, ha utilizzato energia fossile. Vero? È vero. Però cosa facciamo? Stiamo fermi? No, è chiaro che per cambiare, per uscire da questo sistema, dobbiamo mettere anche noi le mani nella merda, scusate, come dire, i termini. Però è così, cioè, siamo in una fase dove comunque viviamo e delle contraddizioni sta a noi capire fino a dove è il punto oltre il quale finiamo per andare dall'altra parte, piuttosto che stare da questa. È chiaro che però, nel momento in cui riusciamo a spostare degli equilibri, appunto, sfruttando anche la forza dell'avversario, perché detta fra noi, non è che abbiamo, almeno qui, le masse dietro che ci seguono e che ci permettono, no, i rapporti di forza non è che sono a nostro vantaggio in questo momento. Quindi l'idea che poi anche, se ci piace di più, è il metodo che usano le guerriglie, no, è quello anche di utilizzare la forza dell'avversario e cominciare a spostare, appunto, gli equilibri a proprio vantaggio. E su questo dobbiamo mettere in campo tutta la nostra fantasia e creatività e credo che nello specifico anche questo sia, faccia parte, questo elemento dell'autoproduzione energetica, come dell'autoproduzione alimentare e quant'altro, siano delle linee di azione che vanno in questa direzione. Sì, sull'educazione, già ha detto molto lui, volevo fare un esempio, però, perché è anche importante, spesso, ovviamente, il sistema non ci fa sapere le cose che lo danneggiano, quindi siamo noi che dobbiamo studiare e anche lo studio è la lotta, non è che si fa soltanto in piazza. Per esempio, noi abbiamo tirato fuori una settimana fa un dossier sulla Snam, che è lo studio più grosso fatto finora su questa impresa e riusciamo attraverso questo a fare delle cose di mobilitazione, ma anche contemporaneamente di educazione, a capire quali sono i problemi. Per esempio, anche se magari di quello studio a livello globale ne viene preso soltanto un pezzo, quello più evidente, magari, che per esempio ci dice, cosa che molta della gente non sa, che sia la struttura di un gasdotto, sia anche la realizzazione finale, comunque la paghiamo noi. Cioè, la gente in Italia non lo sa, cioè, che tutta questa grande opera la paghiamo noi in bolletta e che le multinazionali non sono, cioè, parlano di mercato, ma poi hanno il mercato garantito. Cioè, hanno il mancato guadagno. Cioè, il rigassificatore di Livorno, che non viene utilizzato, noi continuiamo a pagare tutti quanti noi in bolletta, il mancato guadagno a quella impresa che non dà il prodotto. Ok? E attraverso la tariffazione della Rera, cosa che fa anche sull'acqua, su altre cose, eccetera, eccetera, anche se la SNAM, dove costruisce tutto e non porta un metro cubo a Minervio, prenderà il 7% l'anno di mancato guadagno. È pazzesco, ma è così. Allora, magari questo, però, è utilissimo per la lotta, perché fa capire la gente cosa poter fare, e magari sospinge tante persone a leggere il dossier. è tutto un lavoro in questo genere. I due piani di cui si parlava sono importantissimi, come anche altri, se camminano insieme. Allora, io prendo proprio l'esempio di Bicari, perché proprio mi era servito su un piatto non d'argento, d'oro, eccetera. A Bicari c'è uno degli stoccaggi più importanti e più pericolosi che esistano per la costruzione appunto del gasdotto che parte appunto dalla Azerbaijan e va là. Allora, se tutto questo lavoro può servire affinché quando affrontiamo il problema di chiedere la chiusura di Bicari, cioè, possa essere, possa trovare un terreno favorevole, perché già le persone cominciano e hanno acquisito una, diciamo così, educazione, insomma, ambientale e la pratica, allora sì. Allora, qual è l'elemento fondamentale? è capire che siamo in guerra, cioè, che con questo sistema, cioè, comunque, con questo sistema, guerra che non vuol dire spararsi per forza, cioè, ne siamo, siamo in guerra e che il conflitto è fondamentale. Quindi, se noi, cioè, lasciamo tutte le opere che noi riusciamo a costruire senza l'idea del conflitto, anche la cosa più gentile, no? Perché dopo che va fatta in un modo o in un altro, cioè, lo decidiamo noi perché non vogliamo farlo gentile, a volte no, perché dopo ci massacrano come a Genova, no, no, per l'amore di Dio. Però, la cosa fondamentale è che se noi, ecco, se faccio un esempio, commercio eco e solidale, ok? Anche il commercio eco e solidale, diceva, faceva, blibli, 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 da quando ha cominciato, no? A non, cioè, a non legare tutto quello che avveniva all'interno di questi, anche distretti, con il problema del conflitto, no? In senso generale, non ha visto quello che stava accadendo e adesso i prodotti del commercio eco e solidale stanno nelle catene, no? Cioè, di valorizzazione, diciamo, che non è il nostro, diciamo così, no? Allora, non è una colpa, ovviamente, non sto dicendo che è sbagliato il commercio eco e solidale o tutte queste cose, eccetera, però se tu non hai l'idea del conflitto, no? Cioè, non lo immetti, non lo vivi, in una maniera tale che diventa non un'acquisizione che poi viene utilizzata dal sistema che comunque in parte te lo utilizza, ma magari ti dà la possibilità mano a mano che cambia l'espressione del potere a cambiare anche tu e quindi a dare delle risposte fondamentali. Per quello che riguarda la domanda specifica che mi ha fatto il compagno di Firenze, diciamo così, io il pezzo su, la conseguenza sugli aeroporti, cioè, dell'aeroporto soprattutto non la conosco, dico che non è, non posso conoscere tutto, ovviamente, però per esempio posso dire anche una cosa, no? Cioè che pur, dicendo così, avendo recepito il fatto che eravamo contrari ovviamente al fatto che i tempi si allungavano, no? Nella possibilità da parte dei cittadini di fare i ricorsi e cose di questo genere, hanno cambiato delle cose, però hanno dato 45 giorni di tempo per le per le le vie locali, no? E hanno dato 30 giorni per le vie, per fare delle vie che sono complessive e quelle generali o nazionali o cose di questo genere, no? Per cui, cioè, è una follia. Sì, siamo tornati indietro un po', però, dico, cioè, è questa, cioè, la dimensione che a volte, appunto, non, cioè, dobbiamo comunque accelerare, perché, nel senso, però rispetto a questa cosa specifica non mi dichiaro, cioè, non so, ecco, dovrei andare a vedere, perché, insomma, il decreto, l'approvazione finale c'è stata l'altro giorno, per cui non è che tutte quante le cose, però, insomma, è giusto lavorarci sopra, anzi, approfitto del fatto che, spot, cioè, del fatto che ci sono, cioè, rispetto alla Toscana e la Liguria, delle cose che hanno a che fare col fossile, molto, ma molto pericolose, e se c'è qualcuno di questa realtà che vuole darci una mano, e che vuole aiutare anche, diciamo così, i compagni di Civitavecchia che stanno facendo una lotta meritoria, che vi salutano, perché mi hanno mandato un messaggio, voi sapete che c'è una della centrale di carbone più grosse che ci sono in Italia, è lì che abbiamo presentato la nostra piattaforma, perché la piattaforma l'abbiamo presentata non al chiuso, ma facendo una manifestazione davanti alla centrale di carbone di Civitavecchia, non sarebbe assolutamente male, perché ovviamente continuiamo la lotta, ma più siamo meglio è, ecco, diciamo così. Grazie a tutti.